Samuel Stern numero 34, i giostrai dell'Apocalisse. Wabababababababab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Stern. Siamo oggi a parlare del numero 34, ragazzi, tra due numeri so tre anni di Samuel Stern. Non sottovalutate questa cosa, sembra sia passata un pochino più in sordina rispetto, per esempio, al secondo anno di Samuel Stern, che invece vedeva la conclusione apocalittica di Abisco. Siamo già a un anno, quasi, tra due mesi, siamo a un anno da Abisco. E quindi questi numeri, questo e il numero scorso, sembrano che ci stiano portando a nuovi meandri dell'universo sterniano. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, guardate le altre playlist, se vi possono interessare, e condividete il video con tutte le persone che conoscono dei gemelli tatuati e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, su cui ogni tanto parlo anche di fumetti, appunto. Se avete visto ieri il video su Dylan Dog, saprete che questi due numeri, questi due numeri da Edicola, sia Dylan Dog 432, sia Samuel Stern, non solo li sto recensendo con estremo ritardo per il mio solito gusto, ma li ho anche letti con estremo ritardo e devo dirvi che questo ritardo ha un po' anche influito sulla mia capacità di, diciamo, di godermi queste due storie. In particolare, su Dylan Dog ho detto la mia, nel video che andrete sicuramente a vedere, mentre su Samuel Stern la sensazione che ho avuto è che questo sia un numero quasi di collegamento tra quello che abbiamo letto nel numero scorso e quello che ci sarà. Ciò nonostante ha comunque una sua importanza intrinsica, ma sembra venire un filino meno a discapito, appunto, di quella che sarà la trama orizzontale della conclusione della terza stagione di Samuel Stern. E questa cosa l'ho un pochino sentita. Ciò nonostante è un numero molto scorrevole, forse anche troppo, ecco un altro piccolo difetto che ho trovato in questo numero, però che finalmente coinvolge, diciamo, tutta la famiglia sterniana, tutti i protagonisti di Samuel Stern. È un vero peccato che però la coinvolga dividendo e timperando, ecco, quindi coinvolge tutti i protagonisti nella propria personalissima apocalisse, dividendo, appunto, i personaggi e facendoli stare male. Mi piacerebbe vedere un futuro numero dove questi nostri quattro caballeros, i nostri quattro cavalieri, saranno costretti a collaborare insieme, come è all'inizio di questo numero, nelle prime pagine, prima che vengano divisi dai giostrai. Devo dirvi che io che sono un amante di filoni narrativi come il film Constantine del 2005, che lo so benissimo che non c'entra niente con il fumetto, amo anche quella versione di Constantine, quella è un film da prendere a sé stante, ma mi piace tantissimo quel film, mi piace il discorso dell'equilibrio, e qua pare proprio che dopo il numero scorso dove c'erano Barney e suo fratello, di cui mi sfugge il nome, pare che ci sia anche una controparte di Gemelli che si occupa, appunto, di, diciamo, mettere insieme, mettere in scena, mettere su delle apocalissi, a differenza degli altri due gemelli che cercavano un attimino di contenerle e farle avvenire nel momento più opportuno, dal momento che le apocalissi non possono non succedere, succedono, semplicemente ci sono questi quattro fratelli, due che cercano appunto di farle arrivare quando è meno pericoloso e altri due invece che cercano di farle, diciamo, farle avvenire nel modo più sfarzoso possibile, se vogliamo usare questo termine. Ecco, questa continuity mi è piaciuta molto, è una novità, è forse anche una novità fin troppo diversa dal mondo di Samuel Stern, ed è comunque una gioia sapere che il mondo di Samuel Stern si sta espandendo, una cosa che a me dà un fastidio estremo, ma perché sono compulsivo, hanno aperto questa parentesi alla Bugs Comics, ma non hanno ancora chiuso la parentesi degli angeli, io vorrei tantissimo vedere di più su tutta la controparte angelica, ce l'hanno solo fatta centellinare nei numeri precedenti ad Abisco, facendoci anche credere che magari Abisco avrebbe visto una battaglia tra angeli e demoni, invece così non è stato, e penso che a questo punto nemmeno nei numeri prossimi si concluderà la terza stagione coinvolgendo gli angeli, dal momento che nel terzo anno di Samuel Stern non ne abbiamo proprio più sentito parlare. Io credo che la Bugs stia puntando al numero 100, e al numero 100 voglia fare una mega apocalisse della Madonna, dove appunto si scopierchierà tutta la verità che ci hanno narrato finora. Mi piace questo discorso dei luoghi, l'apocalisse, l'Armageddon più che l'apocalisse, è il luogo dell'apocalisse, mi piace come Samuel dopo Abisco riesca a percepire che non solo le persone sono maledette, ma sono maledetti anche i luoghi, lo abbiamo visto dal numero 25, il numero successivo appunto ad Abisco, che anche i luoghi possono essere maledetti, possono avere un'ombra, e di conseguenza essere esorcizzati, e la terra è in un certo senso un luogo, oltre a essere un insieme di persone, un insieme di umanità che vive. E se si arriva a concepire questo, prima o poi Samuel Stern potrebbe diventare magari talmente potente, o trovare degli alleati sul suo cammino che potrebbero aiutarlo a esorcizzare la terra stessa. Quanto meno a togliere un incupimento dell'ombra della terra stessa, perché io credo che una terra senza ombra potrebbe essere comunque molto pericolosa, ci deve essere equilibrio, che è un po' quello che ci stanno mostrando gli autori con questi due numeri. La storia di Filadoro e di Saveniago, senza il padre Fumasoli di Samuel Stern, il primo dei tre padri di Samuel Stern. I disegni invece sono di Enrico Fregolente, scrivetemi se la pronuncia è diversa, e ci tenevo a parlare anche dei disegni, perché appunto, lo sapete, ormai è da tanto che non faccio le storie, anzi, in realtà erano dei piccoli corti sulla Instagram TV sui disegni di Samuel Stern, ma purtroppo mi veniva più complicato di quanto non sembrasse. Fatemi sapere se ci tenete a vedere magari dei reel da questo punto di vista sui disegni, però non prometto nulla, ecco. Però ci tengo a parlarne anche qui, mi piace da morire che ci sia sempre questa griglia che sembra classica, ma in realtà non lo è. Questa carovana che sfora dalle prime pagine è fantastica, tutta questa tecnica io l'adoro, cioè il disegno principale che sfora nelle altre tavole è una delle contaminazioni dell'era moderna del fumetto che adoro più di tutte, succede sempre, eh. Cioè se ci si fa caso magari succede anche troppo, ma è una cosa che adoro. Anche qua, se notate, Samuel Stern, che anche lo stesso Angus, tutti questi sconfinamenti sono superbi, io li adoro. Dei quattro protagonisti, escluso Samuel Stern, che appunto è il protagonista assoluto, e la cui storia, la cui personale apocalisse, presumo capiremo meglio nei prossimi numeri, degli altri tre ho trovato che questa è stata una storia più centrata, e non dico centrata nel senso che ha coinvolto maggiormente dal punto di vista narrativo, ma dove hanno azzeccato meglio il personaggio di Angus. Angus credo sia quello scritto meglio, non a caso tra l'altro c'è di mezzo fila d'oro alla sceneggiatura, che sa benissimo cosa vuole da Angus, come gestire Angus. Mentre i personaggi, secondo me, trattati un po' peggio, sono in quest'ordine, sono Padre Duncan e infine Penny. Padre Duncan, sì, ci hanno mostrato ancora qual è il suo spauracchio più grande, qual è la sua apocalisse più grande, il fatto di ricadere di nuovo nella violenza, hanno accennato, senza nominarla, ancora tutto il passato nell'ira, o comunque che ha coinvolto Padre Duncan con l'ira non essendoci, non avendone fatto parte. Però ecco, più di quello non si va. Io vorrei andare un po' oltre, vorrei vedere se ci sono nuove apocalissi per Padre Duncan. Per quanto riguarda invece Penny, non lo so, il fatto che Penny comunque è collegata con i bambini, che ha paura per questi bambini che si facciano del male, non lo so, non l'ho vista molto Penny. Onestamente avrei toccato di nuovo l'argomento del fratello di Penny. Quella poteva essere un'apocalisse interessante su un futuro che lei teme per il fratello di Penny. Ecco, io credo che Penny sia stata forse quella gestita un po' peggio in questo numero. Ma magari è un lato di Penny che invece ci mostreranno meglio in futuro, che non avendolo ancora colto, appunto, mi sembra non appartenerle. Però ecco, ripeto, potrei sbagliarmi. Il futuro di questa saga vedremo se mi smentirà. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se siete in attesa della fine del terzo anno di Samuel Stern, se invece magari vi ha più sollecitato il fatto che nello scorso numero abbiano citato Calia, ma anche altri due fumetti da Edicola che potrebbero o non potrebbero entrare a breve nel mondo, diciamo, nell'universo da Edicola della Bugs, Edicola Bugs Universe, non so come chiamarlo. Fatemi sapere cosa vi incuriosisce di più del futuro della Bugs Comics in Edicola. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci. Al prossimo video.